BOSS 1, abitrale a te Ok Oh, Gantu E gli aghidi Non avresti dovuto intervenire nei miei piani Ok Ah, è un mega robottone Sembra Metal Sonic a modo suo Ok, come lo combatto questo coso gigante? Non ne ho idea Però ci sono Fa vedere Ok Ho pensato di doverglielo lanciare Però non sembra essere quella la soluzione Anzi, il co-shot è meglio lasciarlo un attimo C'è qualcosa che devo prendere Non mi sembra Ok, quello respawn Vabbè, per ora è una cavolata No, dove cacchio è andato? Ah, preso Non ho visto dove Dove ha mirato Stitch però No, ma scusami Ma ho fatto il doppio salto Vabbè Aspettiamo adesso che respawn Meno male che non esplode quando lui fa la Ok, qua ho sbagliato io Qua ho sbagliato io Allora, dammi il co-shot Grazie Perfetto Vabbè, come battaglia abbastanza Penosa Ok Perfetto Facile Ecco fatto Manca ancora un colpo Se è tutto qui la battaglia Dio mio è facilissima Aspetta Perfetto No Uff, cavolo Ho sbagliato Ho saltato prima del tempo qua Come nessuno ha accorto subito Devo aver sbagliato Allora Prendiamo il co-shot L'ho proprio inseguita qua l'onda Ecco fatto Fatto Ah Ok, corri 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 Stitch C'è qualcosa di nascosto da queste parti Giusto per Starmene anche tranquillo No Sembra di no E allora Proseguiamo Verso il razzo della morte Ecco Dov'è? 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 Dall'altra parte No, 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 no Sali Certo che sono intelligente Ci mancherebbe anche Sali su quelle torrette armate E usa il tasto azione Per fare fuoco Ok capo No Dov'è andata? Non lo vedo Preso Ok E' un po' difficile da pilotare Preso Dov'è? 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 Preso Ok Una volta capito Una volta capito E' stato veramente facile farlo C'è qualcos'altro? No Per sicurezza Non si sa mai Quindi ho preso tutto Sembrerebbe di sì Ok Stato un livello Molto veloce Molto facile Molto Adatto A me Buoni i livelli Bonus I livelli boss Ti danno subito 50 Pam A me